Bene, siamo al video del Consiglio Sporbicitario del nostro studio del Tlg Saprobicitario e iscrivetevi sempre a Nella Dainanti e alle Caracolo con Alfredo Nello Chiedo salutare questa genuina a questa famiglia sinceramente perché chiedo salutare a Costanza, chiedo salutare a Mauro, dai Florina lo saluto chiaramente questa famiglia Poi chiede salutare un altro giovane che chiede salutare un momento su una canola per scritto Ottavio Sanna Ottavio Sanna Ciao Ottavio Se mi sei la ba i denti, venite pure noi che rioniamo, eh? Ciao Ottavio Bene, andiamo davanti, poi entrano dalla panada e noi si intendiamo schieste Pronto? Pronto? Buonasera Buonasera signor Alfredo, volevo salutarla, sono Angelo Angelo? Sì, dagli punti Ah, benedito Angelo con Alfredo Nello Volevo salutarla a lei e a Speranza, soprattutto a Speranza, la mia già preferita Eh beh certo Siamo sempre Ciao Siamo sempre su Tele G, tutti la seguiamo qui Eh beh certo, devo salutarla a te e tutta la compagnia che io questo e la famiglia tua, eh? Grazie mille, tanti saluti Eh, tutto questo bello scantone, abbraci baci Sì, me lo dì a stata resa di Maria Speranza Eh? Vorrei dire che c'era da Abrili a mia nonna Eh? Sera da Abrili Ah, c'era da Abrili Va bene Sera da Abrili Sera da Abrili C'era da Abrili Sera da Abrili e leggo e raccontavano, si aspettavano che conviene di narre questa è una lingua che dicevamo ma si aspettavano, avvicinavano la telefonata e intendiamo questa Pronto? Pronto? Buonasera Saluto Alfredo Saluto, ti vedi che di narri è libertà Tu mi fai chiesto, dai burgo, non so fare il nome mio Gaia? No, non proprio, te lo sono Guido dei Tiretti Guido scusami che dà un po' ma se sai dai, è molto di via Ehi, ehi, ehi Gli abbi fiume dai Vavi i due Eh sì Prima di tutto vado a salutare a Maria Speranza Sì Grazie Per fare il suo complimento Per la cantone di Ghiapinteso La Maria Tattaresa non sono tanto facile da cantare Eh, è Tattareso, la melodia è Tattareso Eh ma voi sa, non canta solo, ma la si interpreterà pure la cosa Eh, 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 eh E' questa cosa più bella Eh beh, certo il Guido Grazie Bravo Maria Speranza Grazie Eh, è come di chiedonare una cosa a ti invece, Alfredo Eh Sì Ehi Ascoltate Tanto Nascito in suo burgo in suo castello Che èste da Sardegna gioiello E pro cantare con Alfredo Mieddu Gli abbiere tanto di cappello Senza usare spada né cortello Sardegna gioiello Come sfidarsi di Ghezzo a duello C'è questa limba del Vare tesoro Chi te l'ha battizzata allegra coro Bravo Guido, bravo veramente Guido Un applauso 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 E adesso Un applauso E' una cosa bellissima Mi vale che mi... Su sette Mi senti scompe Sì 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 Bravo Un applauso Un applauso Ed è Adesso Bravo Guido Tu hai saluto A Fizzostuoso Ammannu Un saluto a Valeria e a tutti i suoi A tutti i suoi, bravo carissimo, bravo Ti saluto, saluta i suoi amici e spero tutto Emo, a tutti i suoi canti, a tutti i suoi canti Un saluto a tutti i suoi canti Ebbè certo, vedendo tanto E la gioia passata noi siamo già cantati proprio bene Ebbè certo, dai che io non prendo il regno, non prendo il suo caviglio mai Ma devi venire al suo sicuro, come te o tu che stai cantando il tuo cuore Camminare solo a solo amico, non prende il suo male Grazie, grazie, grazie E buona serata ancora Ciao Guido, ciao, ciao Ciao, ciao, ciao Guido non mi ha telefonato mai, lo conosco Capita, ti vedo, che hanno sannato la videolina, non come, no? Capolello, dove ti vedo? Fino a subreddito Tutto caposuratore, tutto Tutti, è vero Tutto Susini, tutto Una barra stato lì su Tre spumasole a fare E non fai cosa c'è E ti ha detto, ma non lì, come fai lì? E come ti ha fatto? Fai lì due Appunto, fa l'altro Tra l'altro sono stati qui ospiti, sono stati bravissimi E mi sento tanto, che lo sconosco Devo ai treddi mi sono Dai su il bantotto Anzi dai su il santa trese A culitto, come si dice Si ma, ha sposato il bantotto Eh certo, è una moglie Detti rizzi Sì. Ma è entrata un'altra telefonata e noi ci teniamo il castello e la leiamo, capite? Non credo che chi va da casa di noi ci potrà fare male. Invece la leiamo subito. Pronto? Buonasera signor Alfredo. Buonasera. Io sono un bottiglioso e chiedo di salutare un altro borghese. Ma teatro, al suo sicuro tu hai sentito il burgo spuro. E chiedo di salutare un amico del burgo, ma non tu spara, non conosco pure. E certo, lo saluto caramente. Ma non devo salutare, siccome noi borsighiamo sempre, poi mamma mia, che è anziana, borsighi di sempre in questa televisione. E saluta la car... saluta la car... Ma la chiesa ti imparavo il maestro tizio a suonare. Esatto, maestro tizio ti ho imparato. E non stai a capire sempre se non c'è altro moglie, per le pescine servivano, ma maestro tizio è morto dai metà. No! Ma scusa, maestro tizio è morto, però ho preso un vizio, un nino. Ah, un vizio dai metà. Eh, sì. Chi so. Ah, che del bio isse ancora. Sì, nino. Però maestro tizio è morto di servività non fare. Eh, dove andiamo? E questo è il maestro vostro. E questo è il mondo Percellino, pure. Dei comprare il mondo Percellino. C'è il nostro cervello a suonare su Solette diattoni, su Gimban Tagimbe. C'è la prima serata che ha fatto, che l'ha fatto ai Lorai. E bisogna stare a batturdiare, secondo me. Eh, sempre in festa! Sempre! Sempre in festa! Mi sa che piangere! C'è la vita nostra è fatta caimbra e tu l'ha ribattato che non mai! Bene le parole! Va bene, va bene! Un saluto d'anno e auguri per questa trasmissione! Grazie! Direi grazie carissimo, eh! Saluto a tutta la famiglia, ma non si è minore, eh! Grazie, grazie! Ciao, carissimo! Ciao, ciao, ciao! Adesso molto contento, ha partito il giorno dopo nessuno che non lo conosco, però anche l'orbito no. Le salute a tutta, ma non è aspects zone. Se vuoi lo saluta, la figura è sociale, a nostra mia! Le salute a tutti, ma comprenderli? Bisogna sempre fare così? Si! Non si doggia! Non si problema! Ma come sempre si chiama? Office dei reti che dimenticono da stalla, schnello di una cosa, si sa che vanno sempre allegro se viene oltre e fermo sempre la lingua sana, Se io non sono a lì, non mi hanno a fare la televisione, a fare spiaggare la buona, non mi hanno a fare rire. Poi si chiama Allegra Coro, altrimenti gli avresti dato un altro nome. Ma a te ti manda la corsa mia. E te che non è questo Allegra Coro? Ma scusa, a te ti hanno dato un nome che non si nasce? Sì, è tanto, io solo la pò battevo. E lei batte la corsa, la pò batte l'Allegra Coro. Non ti piace? Se non ti fai sono mattissimi. Tanto se tu non mi abbia, se tu non mi dà le pò, devi andare da inante tutto. Però se ci continua a guardare ci fa piacere. Ebbè, certo. Bene, caro Maria Speranza che vedendo tanto di a te e della famiglia tua, devo salutare la nonna tua mia. Nonna Speranza che ci sta seguendo. Eh, la saluto caramente con un abbraccio e un'istrinta e mano. Poi a babbo tua, mamma tua. Mio padre che poi in questi giorni non è stato bene, quindi cerca di tirarti su, fai da bravo. Puffa di appena a Bardente tanto e a... Eh, lì, hai ragione. Beh, certo. A Basangini, Minaro. Un prisma. Bene, papi tra e Maria Speranza hanno solo da buscanamento. Un'altra la telefonata di noi la leamo. Subito. E teniamo schieste? Pronto? Pronto. No, signor Alfredo. Buonasera. Alfredo niente. E che non girano mai su questo cervello che mi ha zanato Alfredo niente. Tu mi pare che... Il maschio sotto a su castello. E lui va metter a sastorendo. Vista a sastorendo e a sastorendo. Esatto, bravo. Scusa un attimino. Tu sei spazzano mio. E abita a sastorendo al mio padre. Paolino stesso. Eh, Paolino stesso. Eh, Paolino stesso. Eh, Paolino stesso. Paolino stesso. Anche la parola, va? Tu ti li riconosci. Eh, eh. Dallo sguardo. È bella. Perché li stiamo vedendo. Ti senti il nuocchio di uomo. E poi va te una cosa. E lo sovi denne. Infatti. Eh, eh, eh. Sì. Ma io sovi denno a te e tu non mi sembri denne a me. Ti non ho anche di sembri denne Paolino. Eh, Paolino. Eh, paolino stesso non lo fa così. Eh, quando capita. Ma siamo sempre con i formati. E poi, dai per stangere il piano di schieno. E poi la stagione la stagione. E poi la stagione. Che hai assaggiuto. Eh, eh. Da che ora sapi. Ti telefono vago, però ti abbandono sempre e continuamente, non ti lascio mai essere su. Questi anni non li metto mai. Grazie Paolino, a tia, a la famiglia tua, a Mannos e a Minores. A tia e a te tanto e buon travaglio. Grazie, a te tanto a tia. Ascoltale questo cantone che fa che Maria Speranza Russo Salmeludì è stata resa. Abba ha fatto... Dormiamo il fulvio di sito dentro questo cantone. E' bello, abba. Abba questa cosa bella. Bellissima. E' una femmina puoi a fare Salmeludì è stata resa. Noi fatele sinceramente. Grazie Paolino. Ciao a presto. Ciao. Grazie Paolino. Ciao. Arrivederci. Questi di Burgos, la montella mi fa il chiesa di Bolottano che ti sbagliate. però lo conosco. Però sono da metà senza l'orbidere. Compresi ma. Però da chi entra in telefonata, se mi è entrata una orta non mi vuole più. Non mi vuole. Tu mi lascia. Ma come stai a fare? Facendo due e ti chiesti di destra. Bravo. Vabbè dopo anni. Anni, anni. Ma che giusto. E' una cosa fatta bene. Noi no. Noi no. Noi no. Prima via il radio, per via da Cannoso. In portatura Radio del Golfo. Che lo saluto caramente, a Manos e Minoru, tutta la famiglia. E poi saluto anche il tesinale. Puro mio. E a chi mi salutai? A chi mi salutai? A chi su te che ti tramite a il tesinale. A Tirente? No. E chi? A Radio del Golfo. Lo conosco tu. Luciano. Eh? Luciano. Sì, sì. Gentilissimo. Bravo Luciano. Eh sì. Lo saluto caramente su. E tutti usavano migliaia di battuola. Con un abbraccio e un istrino. E ma... La metterò un'altra telefonata. E noi la leghiamo su. Maria Speranti, scusami. Però... Sono cose che mi chiedono. Pronto? Ciao Alfredo, sono Marisa. Ciao. Ciao Marisa. Come tu? Ho voluto un pochino a prendere la comunicazione. Ehi, vieni, vieni Marisa. Dai. Com'è stata Marisa? Eh... Insomma... Così... Già sta un pochino meglio. La rabbia si può fare una data di vino vero che le vaga bene. Eh ma che... Eh... E terminate questa pizzatura in noi eh? Eh... Sono... Sono... Sono contentissima che lei è lì. Eh beh. Ho chiamato proprio per... Per sostenerla. Bravissimo. E poi... Una cosa particolare. Voglio... Eh... Eh... Salutare Nicola, il figlio di Maria Speranza che ha... Che è fuori. È fuori, sì. Edimburgo. Edimburgo. Edimburgo è lui già salutato. Edimburgo, sì sì sì. E voglio mandare... So che lui sta seguendo adesso. Eh beh. Dunque... Le voglio mandare un... Un mare di baci. Bravo. E poi è la mia mamma Speranza. Eh... Eh... Cos'è non deve mancare mai da parte mia in particolare. Eh... E da sapere, dai. La mamma tua, su mattina, capitevi dentro tanto. La conosco una vita con questa femmina. Eh? Grazie. Te mando un abbraccio a tutti voi. A te, a tua moglie anche che... Insomma... Siamo visti da poco. Eh beh... Certo, certo. Sempre vicino. Dai che si ascoltano al faridone e non prende mai la amicizia. Ed è già in partenza. Capiremo tanto. Grazie. Grazie. Buon proseguimento. Eh... Ascoltate questa bella scantone in me. Eh... Ebbè... Vediamo che cosa... Tanto piacciono tutte le canzoni di Speranza. Ebbè... Ebbè... Capirei cosa spunto. Tutto mi chiede. Va bene. Va bene. Te ringrazio Marisa. E poi voglio insomma salutare signora Uccia che non sta tanto bene da Marisa. Un abbraccio forte. Grazie. Grazie. Ma sottete pure questo saluto che sono fatte le due. Sì. Ma sottete pure. Te ringrazio. Va bene. Grazie Alfredo. Ciao. Ciao Maria. Vedete questa cosa come te queste nuove. E vi rendo tanto. Salmiro Dio è stata l'esercito di Tegadennare. Non è solo giocante un sardo. Non è solo la poesia. Per obbligare sempre la poesia. Cadotto un nero da la poesia. Sino per la poesia non va nulla. E uno mi ha mandato a me. La poesia non mi piace. Chi non ti piace ha detto una cosa. Ma sino per la poesia non va nulla. Ah così. Gai sia dapponato. E' letabile. Bene. Guardiamo il video di questa bella telefonata che è molleata. Però in questo momento vanno sul consiglio pubblicitario. Alegre a voi. Alegre a voi. Alegre a voi. Grazie.